Tre giorni di grande spettacolo in una delle città più suggestive d'Italia, Vicenza, città europea dello sport 2017. E' qui che dal 7 al 9 luglio allo Stadio Menti si disputeranno le finali di tutti i campionati italiani FIDAP, la federazione italiana di futbolo americano. Sport, spettacolo ma anche cultura, perché grazie alla convenzione con il comune di Vicenza, con il biglietto d'ingresso allo stadio si potrà accedere alle meraviglie storiche e architettoniche della città del Palladio con il 50% di sconto. Fan zone, food and beverage area, musica e tanti ospiti. Ingredienti per un grande weekend ci sono tutti. L'Italian Ball, la finalissima di prima divisione, verrà trasmessa in diretta da Fox Sports. Biglietti in vendita sul circuito Ticket One. Tutte le informazioni su www.italianballweekend2017.it www.italianballweekendieni.it www.flash.com.ist